Da Cupertino a Modena un evento globale come la morte di Steve Jobs, il visionario dell'e-tech che ha rivoluzionato il mondo digitale, visto da un osservatorio così piccolo come la nostra città, comunque in rete con il resto del mondo. Nel negozio Data Trade di Piazza Mazzini, rimeditore Apple Italia, questa mattina gli schermi dei computer e dei tablet rendevano omaggio al fondatore della Mela, all'uomo che ha inventato l'iPhone, l'iPad e l'iPod e che ha modificato l'industria e la vita di tutti noi. Un guru per qualcuno, una rock star per altri, per tutti un esempio anche nel percorso della malattia. Ha sicuramente dato un nuovo impatto ai giovani sul modo di approcciarsi alla creatività, all'esprimere loro stessi in un ambito informatico e multimediale ed è la cosa fondamentale che ha portato alla portata di tutti, è stata una cosa che ha cambiato radicalmente il modo di pensare. Questa commissione, cioè bellezza da una parte, semplicità, innovazione che rende vincente, ha reso vincenti i prodotti di Steve Jobs? Sì, anche la funzionalità, molto, perché effettivamente uno che smile inizia è un po' a restio, dice vabbè il marchio, è la bellezza, forse è uno stato simbolo, poi in realtà ti avvicini al prodotto, ti avvicini un po' alla filosofia che c'era e che c'è ancora, si spera, e ti rendi conto che tutto funziona, funziona per quello che ti serve e poi ti piace, non c'è niente da fare, sei lì, provi e vai. Da piazza a Mazzini a Via Cortese, dove a sede è la software house Savemade, un gruppo di ragazzi che condivide la passione per il web e che mette in rete idee e innovazione, si definiscono Apple Fanboy e i Jobs condividono il manifesto. Sicuramente lascerà l'idea di riuscire a portare avanti un sogno, di riuscire a portare avanti fino in fondo, scontrandosi anche tante volte con chi non la vede come te. e poi lascerà una delle sue famose frasi, be angry, be foolish, sii sempre affamato, sii sempre folle, e quindi appunto porta avanti quello in cui credi. Grazie. Grazie.